Io sono Gilberto Lazzari dello Studio Tecne, ci occupiamo della manutenzione, della pulizia e della conservazione del carro. Siamo alla vigilia dello scoppio del carro della Pasqua 2017 e come tutti gli anni si fa le verifiche finali con tutto il carro allestito con i fuochi. Una particolarità che c'è nel carro, oltre alle decorazioni, agli stemmi della famiglia dei Pazzi, sono le pannellature dipinte dove sono raffigurati quattro quartieri di Firenze. Questa è la parte anteriore del carro, posizionata in direzione via Calzaioli, dove c'è il quartiere di Santo Spirito. Poi si va sul lato che guarda il Duomo, cioè il lato dove arriva la Colombina, col quartiere di San Giovanni. La Colombina arriva e batte sullo stemma, su questo lato. Su questo lato del carro, che in piazza da via Martelli, c'è il pannello in cui è rappresentato il quartiere di Santa Maria Novella. L'ultimo lato, quello che in piazza guarda il battistero, il pannello con il quartiere di Santa Cruz. Ogni anno facciamo la pulitura del carro per presentarlo al meglio per la manifestazione dello scoppio e come tutti gli anni questa operazione è occasione per una curata verifica sullo stato conservativo del carro. Ogni anno c'è da fare verifiche non solo strutturali, quindi per la tenuta di tutta la struttura, ma anche verifiche sui dettagli decorativi, quindi sulle parti dipinte, sulle parti dorate, sulle parti con argento meccato. Quindi ogni anno è un'occasione per fare un check up completo all'effettivo stato di conservazione di quest'opera, di questo manufale.